Il trekking all'alta velocità 99.88 dell'ora 21.17 proveniente da Roma Termini e diretto a Venezia Santa Lucia è in arrivo al binario 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianola. L'ambiente smart è in testa al trek. Per generare l'accesso al trek invitiamo viaggiatori a disporsi un coltaccia piele in base alla posizione della carrozza indicata dai monico, non sentendo prima di salire la discesa dei viaggiatori in arrivo. L'alternazione di attrazione è in arrivo al €9.17. Poi, la provove la operazione di attrazione. Questa è una posizione di attrazione. L'alternazione di attrazione è in versiamo a chiunque in Filme di attrazione della gianola.